Che bello questo posto, c'è tanta gente carina è un boss che era un bambino non è albanese a qua ho quello è arabica come ti sta bene, come sei? to albania come sei cosa? come sei? come sei! tutta bene! è che bello! perchè? 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 quando si scappa la cacca? cosa ti piace? perchè? perchè? no mio mio, come ricordi no, non so male mio fratello, cosa? aria? aria? come si chiama? non, 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 non solo un occhio tiro vado a prendere un birro questo è il futuro d'italio garbanesi ma va a cagare, ma guarda un po' questo è mico tu vuoi cd, 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 cd tu vuoi, tu non vuoi tu non mi go, tu non mi go tu non buono